Gianfranco Micichè scioglie ogni riserva e si candida alla Presidenza della Regione. Sanità precarie e forestali in bilancio previsti nuovi tagli. Ad Altavilla Milicia partiranno in settembre i lavori di riqualificazione della cittadina. Benvenuta all'edizione di mercoledì 29 agosto di Media News. Il leader di Grande Sud Gianfranco Micichè scioglie ogni riserva e si candida alla Presidenza della Regione facendo arrivare di fatto il PDL spaccato alle elezioni regionali. Il centrodestra siciliano arriverà spaccato alle prossime competizioni elettorali e ancora una volta la Sicilia si conferma fucina politica dell'intero stivale. Gianfranco Micichè, l'uomo evidentemente in grado di frantumare la destra siciliana, si candida alla Presidenza della Regione e annuncia sin da subito l'intenzione di voler allargare la base politica che lo sostiene. Si dice contento perché dopo 11 anni si è costituito il suo sogno il partito siciliano che sarà in grado di contrapporsi alla Lega Nord proprio per la sua connotazione di forte meridionalismo. Queste mattine il leader di Grande Sud si è detto inoltre convinto, in un futuro prossimo, di essere in grado di avere gruppi sia alla Camera che al Senato. Per quanto riguarda Nello Musumeci e la polemica di queste ore, si è detto dispiaciuto a causa delle sue scelte che sarebbero state dettate da logica di partito tutte romane. Ho sentito Berlusconi, ha detto, non ha nemmeno provato a farmi tornare indietro, ma era molto amareggiato. Sull'eventualità di candidare indagati o meno, ha detto, se imponessimo che gli indagati non possono essere eletti, vorrebbe dire che vogliamo consegnare la politica ai magistrati. E adesso ascoltiamo l'intervista a Gianfranco Micichè. Se noi avessimo fatto tutto quello che abbiamo fatto per ottenere garanzie e spazio a livello nazionale, vuol dire che saremmo dei deficienti, perché siamo oggi noi, siamo da soli, siamo senza partito nazionale, quindi senza nessuna garanzia, senza nessun paracadute, come si dice in questi casi, siamo un gruppo di persone che ha avuto infinito coraggio, che ha deciso di stare insieme, tutti noi avremmo potuto avere tutte le garanzie di questo mondo. A livello nazionale, da tanti partiti, non era uno soltanto che ce li offriva, abbiamo deciso di non chiedere, devo dire neanche di non accettare, perché nessuno ce li ha mai offerti, ma di non chiedere a nessun partito, anche se sapevamo che erano tanti che ce li avrebbero date. Qualcuno oggi pensa che il partito di Sicilio nasce perché non ci hanno dato un posto, una poltrona, veramente è in malafede, ci conoscete, sapete che è da dieci anni che lavoriamo su questo progetto. Il vero problema di tutte queste alleanze è stato il fatto che tutti cercavano Lombardo, per cui facciamo meno babbio, come si dice alle nostre parti. Il rapporto che certamente ha avuto dei problemi nel passato è un rapporto che comunque esiste da tempo, esiste con Pistorio, esiste con quel partito. Non siamo stati d'accordo quando l'MPA ha pensato di aprire al PD. Non posso che ringraziare, per esempio, l'unico partito nazionale che sta rinunziando alla sigla, a tutto, pur di fare parte di un progetto sicilianista, perché i suoi uomini siciliani si sono innamorati di questo progetto, che è il Fli. Quindi non posso che ringraziare l'unico leader nazionale che non ha posto condizioni, contrariamente a quelli di un altro partito più grande, che come condizione poneva quello di essere il padrone della Ferriera. L'ex consigliere comunale del PD, Digni Terminelli, annuncia il suo addio al Partito Democratico con una lunga lettera al segretario nazionale Pierluigi Bersani, dove esprime la sua delusione nei confronti del partito. È stata una profonda delusione. Io sono stato anche uno dei fondatori del Partito Democratico, ne sono stato segretario a Palermo, il Partito Democratico è diventato un ADC. con delle logiche che sono molto lontane dal mio modo di fare politica di uomo di sinistra e oggi in una lettera aperta al segretario nazionale Pierluigi Bersani annuncio di lasciare un partito nel quale non mi identifico più, un partito che ha tradito la sua storia, un partito che oggi qui è ridotto a un coordinamento di comitati elettorali che a Palermo è ridotto a un povero 7%, un partito insomma che ha deluso profondamente, non sono l'unico caso in questo momento in Sicilia, ad assumere delle nuove valutazioni. Valutazioni che per quello che mi riguarda vanno nella direzione della crescita dal movimento che a giugno abbiamo fondato, il movimento prospettiva politica nato per unire la sinistra e che si colloca proprio in un'area composta dai soggetti che naturalmente agiscono nel mondo della sinistra. Quindi oggi io annuncio di uscire dal Partito Democratico ma non prendo alcuna casacca, vado nella direzione di un'area composta da più soggetti politici, diciamo che con un'espressione, io non sono cambiato, è cambiato il PD, è il PD che se n'è andato e non io, io rimango quello che ero. Sanità precarie e forestali in bilancio previsti nuovi tagli, l'assessore Armao ha trasmesso a uffici e dipartimenti il bozzone. L'assessorato all'economia ha trasmesso a uffici e dipartimenti il bozzone per la stesura del bilancio di previsione per il 2013 e di quello pluriennale 2013-2015. Il documento conterrebbe una stretta con tagli sugli impegni di spesa nel 2013 per 1,3 miliardi pari ad una riduzione del 22% rispetto al budget 2011 che rientra all'interno del patto di stabilità. Il taglio salirà al 24% nel 2014 e nel 2015. La sforbiciata riguarda anche i pagamenti, meno 26% nel 2013 e meno 28% negli anni 2014 e 2015. Non solo, gli uffici e il bilancio avvertono che non ci sono i fondi necessari a coprire per intera alcune voci di spesa aventi natura obbligatoria o di rilevante valenza sociale. Per cui, si legge nella circolare firmata dall'assessore Gatano Armao ai dipartimenti chiamati a presentare le proposte di spesa, potrà rendersi necessario ridurre ultimamente il budget di spesa dei singoli dipartimenti regionali. A rischio, scrive Armao, ci sono il cofinanziamento alla spesa sanitaria, la copertura per il personale della regione a tempo determinato e per il settore del precariato. E ancora la spesa per la forestazione, le attività antincendio, per gli impianti di distalazione e per i capitoli relativi alle regolazioni contabili. E adesso una pausa per la pubblicità. Antenna 1 sul canale 185 e Video 1 sul canale 196. Non perderci di vista, posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul Digitale Terrestre. I ragazzi del comitato anti-racket Dio Pizzo hanno ricordato questa mattina Libro Grassi ucciso dalla mafia il 29 agosto del 91 per essersi ribellato al Pizzo. La giornata della memoria si è aperta in via Alfieri, il luogo in cui l'imprenditore venne assassinato. E' stata deposta una corona di fiori ed è stato affisso un manifesto. Davanti la sede della Sigma, l'azienda di cui Grassi era il titolare, è stato osservato un minuto di silenzio. E' libero, Grassi ha dato vita ad una rivoluzione contro il Pizzo e contro il sistema culturale mafioso, aprendo la strada ad un cambio di rotta nel tessuto sociale. A dirlo l'eurodeputato Rita Borsellino del gruppo socialisti e democratici al Parlamento europeo. Un cambiamento che oggi, ha continuato la Borsellino, a distanza di tanti anni, si avverte concretamente in una rinnovata e diffusa coscienza critica. Anche se tanto ancora c'è da fare, il cammino è iniziato in quel lontano 1991, oggi continuo e deve continuare. Ma per continuare ha bisogno dell'impegno di tutti, delle istituzioni e della politica al fianco delle imprese. Intimidazione alla sede decentrata della Polizia Municipale di Palermo nel quartiere Brancaccio. La serratura della porta principale dell'ufficio è stata bloccata dalla colla ATTAC applicata nella scorsa notte, impedendo stamane l'apertura dell'ufficio. A denunciarla è stato il comandante dei vigili urbani di Palermo, Vincenzo Messina. Stamattina ha informato il sindaco di questo episodio, ha detto Messina, siamo in attesa degli esiti da parte degli organi inquirenti, non vogliamo stigmatizzare un fatto grave come quello avvenuto la scorsa notte, e ne tantomeno vogliamo colpevolizzare un intero quartiere per un fatto di cui ancora non conosciamo la matrice. GESIP, il piano del liquidatore, prevede cassa, integrazione e part-time, il servizio. Con riferimento al piano preparato dal liquidatore della GESIP, ritengo utile sottolineare che lo stesso è appunto il piano del liquidatore e che non è stato discusso dall'amministrazione comunale. A dirlo il sindaco, Leo Luca Orlando, che comunica che a partire dalla prossima settimana si svolgerà in modo costante un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali che esaminerà un piano per lo sviluppo delle attività dal 2012 al 2017. Questo piano riguarda la GESIP, sottolinea Orlando, ma contiene ovviamente dei riferimenti anche alle altre aziende e al comune nel suo insieme, perché solo in un quadro unitario di risorse e interventi si può trovare la soluzione ai problemi. In sostanza, il piano presentato dal liquidatore per GESIP prevede anzitutto il mantenimento di tutti gli attuali servizi. Il nodo cruciale resta il personale, che incide per il 91% sui costi totali dell'azienda, compresi 146 amministrativi che rappresentano l'8% dell'intera forza lavoro. Ecco perché la società ha ipotizzato il part-time per 150 dipendenti nel quinquennio, prepensionamenti anticipati per altri 231, 31 unità andrebbero a riposo nel 2013 per raggiunti limiti di età, e la cassa integrazione straordinaria in deroga per 500 lavoratori ogni anno a rotazione nel quinquennio. La Giunta Comunale ha approvato una delibera di indirizzo in cui vengono definiti i criteri organizzativi in vista delle prossime consultazioni elettorali. Abbiamo voluto dare un segnale di trasparenza, ha detto l'assessore Giusto Catania, stabilendo il principio della rotazione e del sorteggio per la definizione del personale comunale da destinare all'assolvimento dei compiti elettorali. In questo modo abbiamo voluto eliminare il criterio dell'appartenenza politica che ha caratterizzato la selezione negli ultimi anni. Con l'atto deliberativo si introduce il principio secondo cui i soggetti sorteggiati ed effettivamente impegnati in una delle prossime tre tornate elettorali non potranno essere sorteggiati nelle consultazioni successive. E adesso un'altra pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre! Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista! Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre! Ad Altavilla Milicia partiranno in settembre i lavori di riqualificazione. Saranno sistemati marciapiedi e strade. Disco verde per l'avvio dei lavori di riqualificazione urbana della zona sud-est di Altavilla Milicia. Firmato infatti il protocollo d'intesa tra il sindaco Nino Parisi e il provveditore per la Sicilia e la Calabria e i lavori pubblici Lorenzo Ceraulo. I lavori avranno inizio a settembre e saranno eseguiti dalla ditta GECO di Altavilla che si è giudicata l'appalto. L'importo dei lavori ammonta a circa un milione e mezzo di euro. Si tratta di un importante risultato conseguito dall'amministrazione comunale che ha contribuito a sbloccare l'iter burocratico che si era arrestato a seguito di documentazione incompleta affermato il sindaco Parisi. I lavori riguardano una vasta zona ammonta del centro abitato che necessita di lavori di riqualificazione e manutenzione quali il rifacimento dei marciapiedi e dell'illuminazione pubblica. Le opere che saranno realizzate prevedono anche l'apertura di nuove arterie stradali e il prolungamento di alcune vie esistenti che permetteranno sicuramente un miglioramento della circolazione veicolare e la fruibilità e valorizzazione di quei quartieri ammonte del centro abitato. Altro valore aggiunto importante da non sottovalutare aggiunto il sindaco sarà rappresentato dal fatto che saranno create nuove opportunità di lavoro per le nostre maestranze e di fornitori locali che sono stati fortemente penalizzati dalla crisi economica ed occupazionale che colpisce in maniera particolare l'attività edilizia. A Bagheria il consigliere comunale del gruppo Civicamente Angelo Puleo ha inviato un'interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale sulla riapertura dello sportello anti-racket nel comprensorio bagherese. L'intera cittadinanza, ha detto Puleo aspetta ormai dal 2008 la riapertura dello sportello per offrire ai commercianti ed imprenditori del territorio un importante servizio per un concreto contrasto alla racket delle estorsioni. Domani alle 21 in Piazza Larderia a Bagheria entra in scena la performance di teatro danza e musica live come una stella una notte d'estate scritta e diretta da Giussi Sciortino. E a partire dal 1 di settembre tutte le biblioteche del sistema bibliotecario cittadino di Palermo osserveranno il nuovo orario di apertura dalle 9 alle 18 tutti i giorni con un solo giorno di chiusura la domenica. L'iniziativa che allinea le biblioteche pubbliche del Comune agli standard nazionali di fruibilità e di accesso alle biblioteche pubbliche fa parte di un ampio programma di rafforzamento della rete infrastrutturale della città che è partito proprio dalle biblioteche. Ed è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni. Situazione meteo di oggi mercoledì 29 agosto su Palermo e provincia previste nubi sparse vento di tramontana temperature 21 gradi la minima 34 la massima Previsioni meteo per domani 30 agosto sole e caldo venti prevalentemente moderati da nord-est temperature comprese fra 20 e 36 gradi A presto! A presto! A presto! A presto!